ciao ragazzi oggi parliamo di una ditta italiana ovvero la rtf custom case che realizza flat case a seconda delle vostre esigenze è una ditta che in questi ultimi anni si sta facendo notare molto facendo anche flat case per musicisti importanti come luca colombo ora in questo video vi mostrerò il mio flat case tempo fa mi sono reso conto che in alcuni locali piccoli mi capitava di mettere la pedaliera dietro vicino all'amplificatore e questo per me non era un problema perché utilizzo pochi pedali e li premo poche volte durante l'esigenzione allora mi sono rivolto alla rtf custom case che mi ha realizzato un flat case che mi dà pedaliera e testata già tutto collegato e tutto pronto all'uso allora prima di aprirlo vi faccio vedere l'esterno di questo bellissimo flat case è realizzato con un legno di 7 mm si chiama hexaboard chiusure a farfalla esterne profili in alluminio e maniglia a ciglia ora apriamolo insieme e apriamo il coperchio allora come potete vedere questa è la mia testata pro amp con sopra una ciabatta che mi dà tutto già collegato la corrente lo spectra comp l'accordatore e la trasmittente smoothhound in questo modo ragazzi io collegando semplicemente la ciabatta alla corrente locale ho già tutto pronto per l'uso come vedete la testata è bloccata dalla spugna interna il materiale è la plastazote si tiene benissimo e mi permette di avere una gran praticità sono molto soddisfatto di questo acquisto perché i materiali sono davvero di alta qualità e vi consiglio a tutti se avete qualche esigenza particolare di chiedere un preventivo alla rtf mediamente i tempi di produzione sono di tre settimane vi ringrazio per aver visto il video e vi saluto ciao